Femminicidio, non c'è già un reato che si chiama omicidio, perché specificarlo? Il maschio si è impadronito del linguaggio e del lessico, quindi ha creato tutti i vocabolari che noi usiamo comunemente, la stragrande maggioranza dei lemmi, delle parole, sono state fatte ovviamente nell'antichità dal maschio che in quanto egemone ha impedito alla donna, insomma relegata a quei ruoli che conosciamo bene di subalternità, ha impedito alla donna di raggiungere il logos. Adesso voglio dire una cosa difficile, insomma il logos si sa è il verbum, la parola, che poi logos vuol dire anche pensiero, parola e verità anche, quindi c'è stata proprio un'azione espropriatrice da parte del maschio del linguaggio. Chiaramente dal logos si passa alla logica, per cui se hai un certo linguaggio, un certo logos hai anche una certa logica, avendo quella logica che poi è maschilista, maschiologica, maschiocentrica, fallocratica e tutti i nomi che possiamo stare a definire. Lei da tecnico, insomma da studioso pensa che sia qualcosa di inalienabile, un buco nero nella cultura e nelle menti? Non voglio fare il determinista, però purtroppo l'essere umano in genere, donna compresa, deve lottare con certi istinti e pulsioni che sono rinchiuse in una parte, noi abbiamo due cervelli, si sa, sistema limbico rettiliano ed è chiamato così non a caso perché ce l'hanno le lucertoli, i rettili, i topi e sempre via, e la corteccia. Quindi tocca privilegiare, è necessario privilegiare l'area corticale in cui sono contenuti i dati culturali appresi, per cui ogni maschietto, visto che poi parte da lì la sua azione terribile di violenza, ogni maschietto è inutile, sì si possono fare sanzioni, ma se non lo educhi fin da bambino al rispetto, come giustamente stai composto a tavola, ma rispettare la donna e controllare le sue pulsioni sessuali, è tutto lì il problema, altrimenti si accoppieranno come fanno i conigli e le cose tranquillamente, però lì non succede nulla, nella dignità della donna invece, nella dignità del maschio è tutto un altro mondo che sfiora la sacralità. Dunque, il 26 novembre si è tenuta la manifestazione al centro di Roma per quanto riguarda il contrasto e la lotta al femminicidio, abbiamo aderito naturalmente, pur non condividendo appieno quella che potrebbe essere una politica del muro contro muro, intendiamo fare qualcosa di diverso, infatti questa sera qui da noi ci sarà un uomo maltrattante che racconta la sua storia, non sarà assolutamente una cosa facile né per noi né per lui né tantomeno per il pubblico che non è abituato, però riteniamo che sia la cosa migliore da fare, un avvicinamento e un'educazione all'affettività che parte anche da eventi come questo. Grazie a tutti!